Grazie Presidente, con questo emendamento andiamo a toccare una serie di aspetti molto importanti in realtà. È un emendamento che riguarda tutti i procedimenti amministrativi lavorati dalle strutture e diamo come indicatore di misurazione di produttiva delle strutture il rispetto dei tempi stabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Che vuol dire in sostanza? Questo nel corso dei due anni e mezzo di lavori di commissione abbiamo incontrato molto spesso dei problemi di scarso coordinamento tra strutture che devono lavorare uno stesso procedimento. Mi viene in mente un progetto su un impianto sportivo presentato in sesto municipio dove c'è bisogno della necessità del parere del municipio ma anche del parere del Dipartimento Sport ma anche del parere del Simu mentre la legge prevede che entro 90 giorni questi procedimenti ricevano una risposta questo solitamente non avviene e quindi grazie a questo emendamento secondo me riusciremo a dare risposte come amministrazione in tempi più rapidi a beneficio di tutti. Grazie.